Sono pronti i giorni di là, quindi direi di accogliere con un grosso applauso le squadre di questa sera, tutti pronti ad accogliere con un grosso applauso i giocatori che entrano per il riscaldamento. Vedete che ognuno si scalda come può, come il fisico gli permette, come ha filiato. Ecco, mi tolgo la musica perché abbiamo bisogno di prepararci per il Tai Chi. Sapete cos'è il Tai Chi? L'avete ne fatto su un coraggio di Isfra? No? No? Noi lo facciamo vedere. Ci vuole un coraggioso che va davanti. Vai coffia! Ecco, suono tutti gli altri che si dispongono a rombo dietro di lui. Uno davanti e dietro tutti quanti. Questo è il Tai Chi. . Ayo-sa Ayo-sa Fu-da-ha Fu-da-ha Ha-ha Ha-ha E-e-e I-yo-yo-ho I-yo-yo Ha-da-ma-fu-fu Ha-da-ma-fu-fu Satami-lo Satami-lo I-yo-e-si-ma-ha I-yo-e-si-ma-ha Ha-ha 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 E questo era il Tai Chi Applausi Abbiamo anche l'ultima arrivata Buonasera 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 Arriva in ritardo, non saluta neanche Grazie Passiamo adesso al prossimo esercizio di riscaldamento di twist Il pubblico diventa Basta e brutta da vista Perchè dovrà darci un suggerimento Adesso noi vedremo delle piantoline In anteprima che verranno spedite quest'estate Durante le vacanze Ritegore che avremo E 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 Un animale Vedete un animale? Da tigre Fantastico Vedremo quindi una macchina Che esiste Che verrà poi implementata E che trasformerà Un ventilatore In una Tigre No Si Molta veloci Le pare che girano Che 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 Cher Ch ne vogliamo vedere un'altra vediamo ancora un altro oggetto intanto salutiamo buonasera a tutti abbiamo già iniziato grazie una serie facciamo una serie ad omolo ci aggiungiamo un particolare qui va bene? posso? in un, ditemi, un personaggio famoso fregate un personaggio famoso il superman bella trasformiamo c'è la frase Rossimono una serie ad omolo il superman prego salata salata sarata 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 passi sarata getto! 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 sempre dal chiuso con le conclusioni di questa tutta cosa che si chiama uomo oggetto, ora noi vedremo un uomo e l'uomo oggetto chi fa l'uomo e chi fa l'oggetto, questa è la fase che i coraggiosi il nostro jet che si metterà qui e guarderà tutto il gruppone e si metterà lì e mi torturerà un pochino quello che dico torturare, quello che dico torturare, prego eee 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 ok di illuminazione teatrale che è la Forza Rality, quindi invito a distribuirvi sulle sedie, cioè solo davanti alle sedie in realtà, e qui iniziamo a entrare proprio nel clima competitivo, da bravo DJ, presentatore, vado a prendermi anche la musica per questo momento che si chiama Forza Rality, in quanto Forza Rality, dove la spiego perché sarà molto chiaro, e la vedrete con i vostri occhi cosa accadrà, la tensione agonistica si inizierà a trasformare in cattivezza, l'ordine, penso proprio aversario, inizierà a esprimersi proprio attraverso anche il nostro compagno, proprio, se avete avuto una giornata molto per fossa, proprio pesante, che qui avete voto che si tirano fuori tutte le vostre, tutto normale, tutto normale, tutto normale, questa è la Forza Rality, che significa che il match va per iniziare! E la sirena! E adesso è il momento che ahimè ci tocca affrontare tutti, ovvero la presentazione di un personaggio antifatico ma necessario, perché senza di lui non ci sarebbe match, non ci sarebbe un colui che regola un po' tutto quello che accadrà su questo palco, quindi che direi, intanto non se la prendi, se avete avuto una giornata pesante, nervosa, sfogate su di voi tutte le vostre tensioni, piuttosto che in mezzo alla strada che i vostri figli, accogliete con tutta la cattiveria necessaria, l'arbitro di questa serata, Riverangelo Forza Vincenzo! Venduto! Venduto mi va bene come parola, provatemi i dobi, cioè qui non ho ancora ricevuto niente, e quindi se volete partire con una squadra lana, beh io non posso tantissima intanto però volevo dire, io quando ho letto il suo curriculum c'era scritto che lei era un presentatore dj non un presentatore spausa spausa dj e qua io lo richiamo abbastanza lungo ah ok di qua mi faccio vedere ma li fatevo parlare ma non ho problemi di cui mi fanno aspetto a questo momento va bene, lo facciamo insieme? ma mi hai sensato di sì quindi al volo vado a cambiare treccia eccoli qua i giocatori di questa sera vedo anche il locchetto, avete visto quante cose invece a fare? ma dove sono le magliette eh? non li vedo comparire squadra ci siete? si tranquilli e poi ci sono sempre iniziamo dalla squadra del blu mi sentite? con il numero 69 è il franjez Bertone con il numero 80 è il franjez con il numero 69 1 0 è il franjez randu 1 no è il franjez Grazie a tutti! Squadra blu! Siete pronti? Come si? Abbiamo passato tre ore prima a spiegare che cosa dovevate fare in questo momento. Siete pronti squadra blu? No! Sono 4 anni che facciamo questo esercito. Ecco! Pronti a 3? 1, 2, 3, pronti! E quanto sono carichi loro? Voi avete visto? Sì! E voi non credete di cavarmela così? Pubblico, siete pronti? Sì! Ma mi sono parenti vostri! Chita triste che avete! Siamo pronti? Sì! Bene, allora mettiamo la musica che diceva contatto. E che ero affascinato dalla ritardo. Capisco che era per strada, che l'ho tirata fuori dai cartoni, però al fine non può schiacciare un bottone lo sapeva. Sì! 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 Oh, benissimo! Benissimo, benissimo! Quindi, adesso siamo pronti per iniziare con la prossimissima improvvisazione! Il cui titolo è Le morti di scupite! Sì! Bene, qui lei deve passare su... Eh no! Perchè? Perchè? Caro pubblico, sapete dire un luogo preciso, un luogo circoscritto, non circoscritto. Cioè un luogo è... Pensate che prima che ho chiesto il sintagolo ho detto Asia, non c'era A e P. Un luogo circoscritto, quindi Asia non è molto circoscritto, anche perché cioè per girare la punta ci vuole un po' di te. Quindi, chi parla? San Marino! Ecco appunto! Molto circoscritto! Sì! Beh, rispetto all'Asia è circoscritto, però a San Marino che cosa c'è di più circoscritto? Il castello di San Marino! Il castello di San Marino! Bene! Andiamo dentro al castello di San Marino, che cosa c'è all'interno del castello di San Marino? La torre! La torre di San Marino! Sì! Oppure? La fresco! Un luogo! La fresco è un luogo! Io vado al museo a vedere tanti luoghi! Michelangelo creava dei luoghi! E quindi... Oppure quindi c'è la torre, oppure... Come? La sala da pranzo! Bravo! Mentre che ci sono i bambini! Ci saranno un po' 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 che si riescono e poi diventano... Attenti a non diventare come come gli adulti! Rimanete il palmino dentro! Ecco quindi la sala da pranzo! Quindi... vi faccio un luogo! Il buzze! Va bene? Quindi adesso... Questo uno due tre con cinque... Se siete santo! So ancora a contare! Vedremo undici modi diversi... Quattro! Per morire stupidamente nella sala da pranzo, nel buffet della sala da pranzo del castello di San Marino! quindi non un castello normale, il castello di San Marino va bene? siete pronti? bene allora io fischio vi do qualche secondo e poi il primo inizierà a molire visto che è un altro un po' piccolo e attenti magari prima di dentro perché quando facciamo lo facciamo come esercizio cadono l'un altro lato ci sono alcuni che hanno fatto di fare ok, siete pronti? via è noto che i san marinesi bevono direttamente non dalla bottiglia ma dalla broca e adesso vado un applauso tanto a fare dell'unicentico cercare di evitare ok, vai ok, quando si salta giù la famiglia è questa chi va? un blu? perfetto ecco le famose macchinette del cibo di San Marino che sono vive attenzione a mangiare il mais a San Marino ok, un applauso anche qui e se potete anche fare i versi e anche parlare se volete spagetti spagetti? si no, gli spagetti nel naso anche io ce l'ho messo tre volte con la stagione di naso mi sono usciti dalla bocca che freddo ma non mi hanno messo attaccato a qualche minuto sono dietro i titoli di San Marino si ma qui credere in castello se non accede il fuoco e non si scalda la sala è grande vuole ma non c'è perché non accenderebbe il fuoco deve scaldare il tutto il Marino eh, da tutti i morti ok ecco, se volete potete morire anche qui davanti anche addosso alle persone della prima fila ce l'ha? ce l'ha? non c'è 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 si dice che buone le ciliegie di San Marino finalmente posso vedere il panorama qui dalla torre c'è un panorama fantastico perdito ora il cinghiale per me ma questo cinghiale vivo è morto ma questo cinghiale vivo è morto risorgete e ritornate ai vostri posti bene adesso è il vostro momento perché voi dovrete scegliere se secondo voi sono stati un po' più divertenti più bravi quelli della squadra blu oppure quelli della squadra gialla quindi quando vi chiederò la squadra dovrete applaudire non urlare non fissiare non buttarvi al nostro lato quello che dovrete lo fare dopo ma soltanto applaudire quindi sempre felice la squadra blu applaudite per la squadra gialla a volte faccio andare alti per ore sono fuori con le mani completamente sono fuori con le mani e per la squadra gialla aiutate e la prima e la prima e la prima e la prima parimento un punto a testa e non facendo un punto quando si è possibile che è forse se non può parlare e non può parlare con l'altro perché se no non ce l'ho che ho spiegato, glielo spiegherò l'anno prossimo, però se lei parla con l'articolo io le do un palli e al raggiungimento di due palli io la sbatto fuori, quindi io volto attenzione perché io sono un altro, quindi è comparata, adesso vi facciamo vedere un pochino cosa succede nei match, è comparata, qui dovete picchiare tutti quanti, ma nessuno e nessuno è venuto mai a vedere un match, solo tu Dominic, allora un punto alla squadra gialla, e quindi è comparata, la prossima improvvisazione la cui categoria è da 1 a 5 e ritorno, quindi da 1 a 5 per una squadra gialla, da 1 a 6 per una squadra blu, mi dite una parola qualsiasi? chiave chiave, un'altra parola qualsiasi? lo sa, lei è in prima figlia, io non accetterò mai parole da lei perché... un'altra parola? occhio ok? basta, mi va bene, occhio quindi la squadra blu avrà come suggerimento, poi potrà farne quello che vuole, la parola chiave, adesso come sono buono, la squadra gialla invece è la parola occhio, anche voi potrete farne quello che volete, quindi adesso, devo passare sempre in mezzo a voi, ecco, il pack bianco per la squadra gialla, il pack nero per la squadra blu, speriamo che non si rompa questo palco, mi sembra abbastanza duro, vediamo... la squadra gialla... lo sapevo che dovevo fare il mago io, luk, scegliete di uscire per primi o di far uscire per prima la squadra gialla? Abbiamo, che ne so, tre ore e mezza. Andate voi, eroici! Un applauso! Quindi, al mio fischio, il primo entra. Vi spiego velocemente. Il primo entrerà e inizierà una storia, una improvvisazione. Quando io fischierò, chi è dentro si bloccherà, entrerà un secondo e insieme inizieranno una seconda storia, fino a creare sei storie diverse. Al fischio successivo, l'ultimo entrato uscirà e i cinque che rimangono dovranno riprendere la storia che avevano iniziato quando erano cinque. Poi in quattro, in tre, due, uno, e poi non avete capito niente, ma fa niente. Siete pronti? Però mi piace molto spiegare vedere le facce. Ok, pronti? Niente! Quello re che mi ha chiesto questo prigioniero da portarlo, dirò, eh, ok, io soltanto facevo la siesta, devo obbedire. Allora, la cella del prigioniere era quella, questa qua, questa, qua, questa qua, questa qua, 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 qua. Comunque, ho la chiave di quella, ne provo tutte. Fermo, ok. Una seconda storia completamente diversa dalla prima. io ti ho dato la chiave del mio cuore, ti ho fatto entrare nella mia vita e tu mi fai questo regalo per il nostro anniversario. Sì, ma guarda bene che la chiave entra bene nel lucchetto. E adesso che cosa pretendi? Che andiamo su un ponte a mettere questo lucchetto? È un simbolo, ma si apre e si chiude. Bene, bene, benissimo. È arrivata, che bello vederti. Allora, la nostra casa è pronta Abbiamo preparato tutto Perché noi andiamo in un weekend Ma ritorneremo presto Soltanto un paio di giorni Quindi ora ti lasciamo le chiate di casa E tu puoi stare lì quanto vuoi Abbiamo preparato tutto Il letto è pronto Le cioccolate sono pronte Il frigo è pieno Il frigo è pieno, mamma Sì, mamma Lo so chiamare mamma Allora, ci muoviamo Dobbiamo partire Caricate le valigie sull'autobus Ho un orario da rispettare io Possiamo aspettare un attimo La mia sorella? No È arrivata qui con noi Sta arrivando, sta arrivando Non la possiamo lasciare qui Va bene, dov'è andata? In bagno Ma c'è anche sull'autobus Eh no, sapeva Allora, ricominciamo da capo La chiave di violina Ma curva così Non così Così Poi così E poi così Che significa? Che serve per aprire un violino Dimostratemi questa chiave del violino Fattemi un esempio Che è un'altra chiave del violino Che è un'altra chiave del violino Non sei bella Tu sei la mitica La più brava La più dolce Ti faccio ridere Se tu deve rimorzare per sempre È un'altra chiave di violino E lì dovremo felice Sì Allora, il violino Il violino è così 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 No? Sì Forse 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 Il violino Intende Quello 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 Guardatevelo suonare Questo violino Voglio sentire Musi Musi Zoom E 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 Allora Fai 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 Il respiro So E E E E E E Mi Mi ha chiamato E' rimasta Chiusa in bagno Non riesce ad arrivare Per prendere il pullman Noi non possiamo partire E' chiusa Non esce dal bagno Non arriva E noi non possiamo Ripartire senza dire Andiamo Andiamo E ci impariamo E costo L'era Certo Dobbiamo chiamare Assolutamente Qualcuno deve venire con me Ad aprire la volta del bagno Va bene Va bene Prendo la presenta Degli apprezi Ma Movedevi E' rimasta Chiusa in bagno Allora Va bene Lo so che c'è soltanto Una scatola di sardine Però Ma Ma Guarda Questa scatola Abbiamo scelta Sono le sardine migliori Tu puoi trovare Ma C'è una realità Le sardine Noi devi mangiare Per parlare Per parlare Sono ancora liberi Allora Una al giorno Però devi Cacciare Allora Noi siamo sette insieme A posta Perti E ti che venite Che moglie Per guardare Noo Come può pensare Questo Le guardi Una D'una Va bene Lo so E' un po' Arrugginito Questo Luchetto L'ho comprato Dal cinese Ma Ho sacrificato Tutti Mi hai soltanto Le monete Soltanto Le monete Arruginate Anche loro Però Ci ho messo Tutto il mio cuore Dai Abbiamo Quello Luchetto Assieme Ho preso Due chiave Adesso Come faccio Io Questa è un po' Gialla Questa è un po' Rossa Proviamo Tutte Due Queste Chiamere Cavolo Ho rotto La chiave Mi sente Può aprire La porta Dall'interno Vado a dire Arrugginito E' morto E' morto Alle volte si nascondono, però a me sembra tutto a posto. Se è tutto a posto, io quasi quasi inizieremo, faccio due prove di riscaldamento, prima della voce. Andà, ma mi hai infilato il dito nell'occhio, ma insomma... No, no, ma è che non si piega, cioè, no, è che io, purtroppo, perché facevo un mestiere e mi si è rimasto così, cioè, di fatti... Eh, no, così li c'è... Ma, 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 c'è il caglio? Sì, sì, bravo, bravo! Di solito ho un cartello, ma oggi... Attenzione al dito! Ma è... E' che, appunto, ho cambiato maglia, lui ce l'avevo nera... Eh, sì, e c'è un altro cartello, attenzione al dito... Non hai passato il cartello sopra la maglia... Esatto, esatto... Sì, no, è certo, per me... Aiuto, aiuto, ho presso l'occhio, mi è caduto! Aiuto, aiutate... La, no... Non... Ho visto... Non vedo, non vedo, non vedo, non vedo più! Non cadete attenti, perché se no lo schiacciate... Sembrava che l'ho visto... Non vedo, non vedo, non vedo... Mi sembra che ho visto rotolare qualcosa... Ti dà, ti dà... Io velo solo di là... Per me va bene... Piano, 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 piano... Occhio! Occhio, è riparata la strada! C'è uno senza occhio! Che uno simpatico! Venga, buon uomo, di qua, stia attento... Ecco qua il bastone! Attento con questo bastone! A presto! A presto! A posto tutti! Poi ha bevuto! Ha bevuto! C'è il cane che mi porta in giro! Ah no, il cane va di là! Occhio, è anche il piatto! Eh! Allora, siete pronti? Ok... Si, si! Ok... Ok... Hai sudato tanto? Un pochettino! Si, però siamo più a posto! Si, no, ma in effetti... Siamo pronti! Siamo pronti! Vai! Ok... Prima sei all'età! No... No, no... Scusa! Ma non arriva più? No, ma non è vero! Scusa che mi lacrimavano gli occhi! Non vedevo nulla! Ci sono i poli! Scusa! Io vi lascio stare tutte le casse! Facciamo! Dai! Sì! Dai! Ok! Hai un altro a spostare le casse? No! Non vedo ora! No! Scusa adesso! No! Non lo potete fare! Ma no! Andiamo! Forza! Facciamo! Andiamo! 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 Facciamo! Facciamo! Ora c'è la data! Si, dobbiamo saltare tutte le casse! Facciamo! Vedi che... Per quello che chiedevano le manigliere... ...Gerali non! Eh...sì! Saltando le casse! Facciamo! Uno! Due! Nove! ok allora guardate i ruoli sia aspetta che va guardate guardate si guardate voi lo sapevo lo sapevo strane come sei come facevo uff non va la ride o mi basta di qua di centro si qua eh ma andate perché mi fa male entra l'aria se entra l'aria sta va terra di dentro di Pedro di Pedro di Pedro era giallo era giallo è giallo e andate a prenderlo che mi entrerà nella terra no no, da te il libro va a finire tutta questa cristalleria che c'è qua con questo dito no e no, insomma, mi hanno detto guarda che là la cristalleria ma no, mi muovo con cautela eh no no, ancora no no, perfetto e che mi è ma hanno detto apposta c'è questa cristalleria va lì? sì una questione di assicurazione ah, quella è la frode no, perfetto no, perfetto è anche lì questo è di sicurezza questa è la situazione per l'altra parte in fondo qui non ci sono rumore però non ci sono però posto però... forse c'era qualcuno quanto siete? molto bello eh qua allora allora io io vado ti vota per la squadra blu ti vota per la squadra c'è una applausi è tutto per la squadra gialla se volete mettere tutti la squadra gialla io vi ho detto come si fa no? ok quindi faccio il riettino con la squadra gialla condurge per due punti a uno sulla squadra blu con qualche fusione ecco ma il pubblico tanto non costa nulla non è neanche pagato non è neanche pagato ecco allora ragazzi perché io d'altronde sento soltanto lo spostamento d'aria del vostro aplante e quindi voi potete fare tutti gli urli che volete ma è lo spostamento d'aria benissimo passiamo alla prossima improvvisazione che tensione guardate ecco benissimo ecco benissimo da aspettare non ci sono neanche buoni quindi è mista l'improvvisazione il cui titolo è 5 minuti a mezzanotte la categoria è dalla A alla Z e ritorno chi vuole può mettere anche le lettere stranie durata 5 minuti adesso voi avete 20 secondi 5 minuti a mezzanotte io vi raccontavo questa categoria mentre loro hanno 20 secondi per mettersi per scriversi vuol dire che ogni battuta deve iniziare seguendo l'ordine alfabetico quindi la prima battuta inizierà dicendo la seconda la terza la quarta poteva anche prepararsi delle parole no ma volevo un pari delle battute no abbiamo aspettato tanto questo video e guardate le tasse come potete fare e e e si forse è meglio se ci spostiamo un po' più e già potrebbe essere un'idea questa e ho un'idea migliore di questa e i miei vicini di casa e e io vi sto faccio che bene c'è una casa libera ma c'era la l questa adesso no oppure se continuiamo diversamente e potremmo partite quando restate questa era la lettera sbagliata quando restate quando quando vuoi partire subito tutti insieme appassionatamente uno alla volta uno alla volta vuoi venire anche tu? zio vieni zio ci scelgo dai 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 non fai voce uno di noi deve partire subito troppi troppi siamo qui si ricordatevi che non potete venire tutto quando? prima di mezzanotte oh forse forse mi hai dimenticato l'orologio meno male no 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 meno male no no ma cosa dici? si le valigie sono pronte? andiamo? io non lo so se vengo io non lo so ho dimenticato una cosa in casa ciao mi sembra l'ho vista sulla tavola figura figura domani è caro dobbiamo partire assolutamente entro ventanotte quindi per favore scriviamo e io? Caterina 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 per tu per tu io l'ho registrato visto che io sono l'arbitro e dovrei dare un fallo ad ogni frase sbagliata 5 o 6 per squadra do 6 falli per squadra nel match di improvvisazione teatrale ogni 3 falli che vengono dati ad una squadra viene assegnato un punto all'altra squadra per cui 6 falli a testa sono 2 punti a testa quanto siamo adesso? allora siamo 3 a 4 a 2 e guardate che quando puntate un dito verso uno altre 3 dita puntano verso di voi guardate che con questa battuta qui sono veramente felice di averla chiamata stasera stasera si imparano tante cose non sapevo che per far prendere aria il cervello bastava che spostava un attimo anche così va bene va bene il vostro voto per la squadra blu il vostro voto per la squadra gialla 很 bello le sue sono è un attimo Unit dalle sviluppare chiamati di Siete in meno, siete in 5, 9, 6, di solito ho un palco per la squadra che è in meno. Per due palco. Se continuate avete il dolore. Ecco, l'arbitro di sera dispensa principale a destra e massima. Guardi che sono delle persone che non è, potrebbero capire male. Va bene, allora adesso vi trovi due giocatori della squadra gialla qui sul palco di fianco a me e due dalla squadra blu qui sul palco di fianco a me, perché faremo un toss. Mi è venuto giusto un po' l'appetito. Anche a me, infatti vorrei finire il più in fretta possibile per andare a mangiare. Bene, siete pronti? Ecco, quindi non sa lei che cos'è un toss? Un fallo! Questo va bene per questa volta, io lo sa. Bene, quindi mescolatevi, cioè non è che ci siamo due da mescolarsi in quattro, però ecco, fateci vedere che vi mescolate. Adesso il tasto come funziona? Loro si abbasseranno. Preparatevi, inizia la spiegazione del giorno. Mi preparavo questo gestito prima. Dovrebbe fare la vena. Mi ha attribuito un fallo da sola. Ecco, si ha attribuito un fallo così abbiamo sua moglie contenta stasera. Bene, quindi, quando io fischio, chi di loro vorrà si alzerà in piedi e inizieranno insieme quelli in piedi una improvvisazione, una storia. Al fischio successivo si appasseranno. Quando fischierò di nuovo si alzeranno altre persone. Se sono le stesse, se la storia è già iniziata, continueranno quella storia. Se sono nuove combinazioni, inizieranno una storia nuova. Avete capito? Bene, siete pronti? Uso questo perché con fischietto sto diventando solo. Quindi... L'indica col cazzuare. L'indica parolacce. L'indica parolacce. L'indica parolacce. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. un pacchetto me l'ha dato il barocchino del quartiere il pacchetto di erba verde i bambini dicono sempre la verità e quindi va cos'è che giallo e quindi giallo un applauso per i bambini accidenti che è scombattuto siamo 5 a 4 non prendo la parola 5 a 4 è mista l'improvvisazione il cui titolo è questo deve essere il posto numero dei giocatori illimitato cioè quanti ne vogliono senza esagerare mi raccomando perché a un certo punto prima ne ho visti tantissimi tutti schierati categoria senza una lettera durata 5 minuti beh adesso bisogna di sapere una lettera una consonante perché la vocale puoi capire perché sarebbe stata difficile una consonante la l l l un'altra consonante l r quindi blu o giallo l blu blu quindi la r per i blu la la l per i gialli per i gialli i gialli quindi la squadra blu dovrà recitare senza poter dire parole che contengono la lettera r la squadra gialla invece non potrà dire parole che contengono la lettera l siete pronti quindi 20 secondi 20 secondi per mettersi d'accordo un po' su cosa fare quindi in te r e in te come sta andando mi piace se ne vedete un po' di corinistra e tal no questo no e tanto mettiamo qui in parte tutti quanti qui se no vado la scegliamo fuori e iniziamo guarda io la rapinatori come noi non c'è bene giusto non c'è non c'è non c'è non c'è mi pare solo io che segno quello che vi dobbiamo fare poi colpa non l'arte e poi mi dite la via dietro gira dietro prima io sono ho visto un'ombra e chi sarà il barone dove siete dove siete ho visto una cassaforte non so come ma che scemo ma togli la cassaforte ecco per me ora vedo una cassaforte dove senti qualcosa senti qualcosa senti qualcosa senti qualcosa non c'è quel lavoro di me ma è l'unico lavoro che ho trovato ma quanti siamo quanti anni non sento cosa non sento questo è il nostro lavoro non voglio c'è bisogno concentrazione c'è bisogno concentrazione ma la vita è così è come un gioco bello bellissimo arrivato per favore siamo qua siete pessimisti devo rubare devo aprire fai tu gira 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 io lascio un po' tutti a me basta usare che senti? musica con asica musica 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 sei scegato? Ieri, ieri vieni e vabbè era a perdo! appunto! prendi! lumano, lumano lumano come tu ti fai? chi è? ammazziamoli tutti scappiamo ba 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 è una cassa forte è una cassa forte non è una cassa Andiamo, andiamo. Un applauso. Quante parole con la R hanno detto loro? Sette? Qualche parole con la L hanno detto loro? Sei? Quindi sette panni più, sette panni già. Sette panni più vuol dire che regalano due punti ai gialli e più ne hanno uno a parte. Io loro quanti quanti? Eh, sei, due, otto, quindi regalano due punti e due che si tendono un panno a parte. Sì, bravo. Poi c'è la sua regalantina che la R hanno detto loro è un po' di inizio. E quindi il vostro palco per la squadra dei blu. Il vostro applauso per la squadra dei gialli. Siamo arrivati all'ultima improvvisazione della serata. Bene, mi dite il nome e il titolo di una palla. E si dite così. Biancaneve. Biancaneve oppure? Sì, che bello stesso. Ah, bello stesso. Questa, in effetti, me la raccontava tutte le mattine. Biancaneve, mi puoi ricordare velocemente i personaggi di Biancaneve? Ok, ci siamo? Sì, poi? Il cavallo è un cavallo. Il cavallo è un cavallo. E poi? Il cavallo è un cavallo. Il cavallo è un cavallo. Il cavallo è un cavallo. La mela, il cacciatore. Poi la polvere è un cavallo. C'è uno specchio. Gli uccellini. Egli cervianti. Poi il Walt Disney riutilizzava spesso i personaggi di altri cartoni. per cui c'è anche Bambi dentro forse Bambi è arrivato dopo ma fa niente voi non lo sapete ok, bene quindi adesso dovrete interpretarmi la favola di bianca nere ok, quindi entrerà subito un attore della squadra una storia della squadra gialla e inizierà la favola di bianca nere che dovrà arrivare a conclusione una volta conclusa questa piava la rivedremo in modi diversi va bene? avete capito? voi avete capito? no, ma fa niente non l'avete capito in gioco ok, iniziamo siete pronti? decidete soltanto chi entra pronti? spiega 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 dimmi chi è la più bella ti prego è bianca nere no, ma no ma no ti sbagli ti sbagli ma il specchio non sbaglia mai questo è lo specchio italiano quello belga non vince la stessa cosa no, ma no la bellezza di bianca nere arriva fino in Belgio è lei no, ma ci sono i raggi del sole che danno nello specchio quindi mia regina volendo potrei andare mi offro volontario diciamo fare qualcosa con bianca nere magari un colpo di la porto nel bosco si e poi la uccidiamo si e porto il cuore del cinghiale va bene si, si, si va, va, va signora che c'è a trovare andiamo a partire è ora di andare mi raccomando oh, che bel fiorellino oh, che bello coglietelo guardi, guardi che bello ma non posso uccidere ma ucciderò questo cinghiale meglio un bruto no, ma poi le spiego lo porto alla alla regina e allora e allora io aspetto qua da un anno fatto oh, che impressione è un po' grosso per essere quello di bianca nere eh non c'è un po' poi così che lei è tutta minuta poi questo è quasi blu no, ma lei non è perché è di sangue reale bianca nere questo me l'aspettavo certo no, ma io sono sicura che non è morta no, ma lei non è morta ciao ciao, ciao amici aspettate dove stai? vieni voi siamo a prezzo noi abbiamo lavorato ma vi aspetto a casa in un tanto pronto, no pronto, non vieni pronto mi aspetto a casa mi sono andata ma pronto non sono andata un po' di cento adesso siamo arrivati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e per me specchio specchio dimmi ma chi è la più bella su questo pianeta? è sempre bianca nere ma no, ma vuol dire che lui non è scisa bianca nere è ancora vita ma caspita ma che tipo di paggio ho io ah è che sta lavorando per me ma non si può adesso io le darò questa bella mela faccio portare questa bella mela basta allora mi raccomando mi porta questa bella mela tutta rossa bella lucina la porta a bianca nere perché io la vorrei morire sono tanto una bella oh che giovanosa fa di cosa ma non è mica giovanile ma che giovanata oh guarda ma giusto mi ho preparato il tavolo per l'ora e tu pronto di sempre l'hai visto che bravo ce l'ha preparato anche la cera questo non si ha finito un piatto ma non è lo ma non è lo da qua io come mi si vede io sono un'altra del bordo andiamo andiamo posso restare certo ma è che si ti dico noi racconta la tua giornata ma io ero andata a cercare nel corpo per cacciatore al bosco si perché ma è pericolosissimo non è pericolosissimo senza di noi non è pericolosissimo non è pericolosissimo va bene ma che sono adesso domani starò qua domani starò qua adesso andiamo a dormire però che età deve lavorare ma non scusate anche devo dormire anche se ragazzi ragazzi presto dobbiamo fare ecco buona buona Andiamo lavorando, 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 lavorando. Buongiorno bella fanciuta. Buongiorno bella vecchietta. Lavori molto? Eh sì, mi sto guadagnando la fagnotta. Dovresti prendere un chilo di canto. No, perché? C'è un po' di canto. 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 Che beee. E' bellissimo. Però il Nardo mi ha detto di non mangiarla. E' bello. Non ci fiede di me. No, 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 no. Mangiala, mangiala, è buonissima. Mmmmm. Mmmmm. Specchio, Specchio, adesso dimmi chi è la più bella. Sempre io, vero? Adesso è lei. Non c'è nessun'altra bellezza in questa vita. Oh, che stupenda adesso. Ti abbraccio, Specchio, ti abbraccio. Un applauso. Non esistono i brici di azzurri. Ne avete visto uno rimasto più. Quindi cosa vi ho raccontato? Non esiste. Quindi la piava, la nostra versione di Pianina Neve, finisce così. Ma adesso, ditemi un genere cinematografico. Che ti piace tanto? Allora. Eh? Horror. Pulp. Horror. 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 Vedremo. Non che questo lo fosse tanto, eh? Però lo vediamo ancora più, più, più. Anzi, facciamo un horror pulp. Eh? Parp. Eh? Parp. Rivedremo Biancaneve nella versione Horror Parp. Però vi do un limite, perché, cioè, qui c'è gente che domani, magari, domani mattina magari si deve svegliare entro le 11. Se andiamo avanti con Biancaneve così dettagliata, non ci arrivano le 11. e quindi vi do solo tre minuti per fare la versione di Biancaneve Horror Parp. Siete pronti? Pronti? Tre minuti, eh? Via! Specchio, specchio, dimmi chi è la più bella. Dimmi, 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 dimmi. Eh, Biancaneve nella vicine. No! Ci vado io, ci vado io! Ah, 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 ah! La ucciderò, ah, ah! Andiamo, bella, vieni, vieni e raccogli sto fiore! Ah, ah, ah! Scarpa, che dalle merda! Non c'è a te! Non c'è a te! Ah! Ah! Non è andata quella. Ah! Ah! Eh, ma aspetto, chi è la più bella? Ecco, è la più bella! No, ma no, ma no, ma questo è troppo bello, no, ma non è bello, non è bello, non è quello che si piacanele, no, che lei non può essere così bella. Serve più sangue piacanele, non ha sofferto abbastanza, è ancora viva e bella. Non è vero, non sapevo, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 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 Ma sto venire con voi? No! E' più bello che la piubela! Sono io! Sono io! Dime che sono io! Sì! 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 E' sempre via carina! No! No! Serve una mela per farla morire! Allora! E' perso di sacco istantaneamente! Questa mela ce l'ho qua! E' la cosa che la lucida! Dai! Vai a portarla! Dai! Vai! 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 Mamma mia! Quando tornano queste le facce da mangiare! Oh no! Ah! 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 Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Vengo adesso! Chi è la più bella? Chi? Il rivolto di mia caneva è ricoperta di sangue! E lei già si a terra bruttissima! La più bella è finalmente lei! Yes! Ho vinto! Grazie! 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 Adesso, visto che domani sera alcuni di loro faranno lo spettacolo di teatro tradizionale... Allora, la voglio rivedere in modo teatrale! Quindi, come se fosse stata scritta da Shakespeare! Va bene? Ci siamo? Avete sempre tre minuti! Questa volta ce ne avete messi due dieci, quindi va bene! Tre minuti eh! Ok! Per tre minuti c'è ancora il dono, non c'è bisogno di cosa! Ok! Siete pronti? Versione Shakespeareana della nostra Bianca e Neve! Svecchio, svecchio! Voi mi dite chi è la più bella su questa terra? C'è solo una canciuga che illumina questa terra nella sua abitazione! Il suo nome è bianco! Non ci credo! Voi mi state mentendo! Sì, sì, sì! Adesso io vi... Viva Regina! Mi dica! Signoria vostra, offre i miei servizi affinché venga ripulita la strada a fronte a voi dalla bellezza altrui! Ma accetto il vostro intervento e vi incarico di andare! Porterò me con Bianca Neve nel bosco e Ivi la finirò! Perfecto! Cosa è? Felicità! Venite! Guardate quali aulenti fiori qua nel bosco vi ho condotto a raccogliere andate! Ma non ho cuore! Non ho cuore per compiere questo delitto! Ma vedo qua un cittàle! Guardate! Affonderò il mio pugnale in questa velva! Il cuore della bestia! No! Specchio, specchio! Poi mi dica chi è la più bella! Mia Regina! Sempre con questo specchio! È l'unico che mi risponde la verità! Eccovi la verità! Qui vi giace il cuore bella! E' questa morta! Non vi credo! Perde! Ma che mali! Ma quanto mai ho mentito! E' troppo blu questo! Morta! Oh non è morta! Ecco il problema! No no no! È fiorezza! Ancora non porta il tuo voglio che deve essere la più bella! Non ci sono versi! Non ci ma yerba anche se! Non è vero! Oh via ringrazie! Oh via ringrazio! EhITo! EhITo! Oidiaonofこの mangb pore! Ma... Sii per agencies c'è via! Erكل bambone! Non è così, non è così. Non è così, non è così. Non è così. Non è così. Mi dispiace. Vecchio vecchio, vi chiedo per l'ennesima volta, ditemi chi è la più bella adesso. L'intero regno risplende ancora, perché una creatura illumina tutto con la sua verità, il biancaneno. No, ancora lei. Adesso mando il mio page con la mela, quella bella lucida. Sono il vostro. Grazie, sì. Me l'aspettavo. Sicuramente ha rifatto lei. Ecco la mela che dovete portare a via cadere. Mi raccomando, la fate mangiare. Sara ha fatto un mio page. Che non è il padre. Non è niente. È il vostro. È il vostro. È il vostro. Già di riporto, signori. Non mi aspettavo così presto. Ci ha detto. È il vostro. Quanti cibo cresca. Per. Per. Pocciò. Ciò? Assertamente. È molto tardi. Arriva, arriva. Ah! Andiamo! Allora. Volevo a finire con Zegna, signora, cara vecchina, vedo che stanno lavorando molto, le vostre E' un po' rosso come il fuoco, gustoso come qualcosa di meraviglioso E adesso morite per noi E il mio bello specchio, chi è la più bella adesso? Mi raccomando voi mi dite la verità Nel Reame c'è soltanto una dama che incumina tutto con la sua prevenzione E lei Quindi, visto che abbiamo continuato con una versione molto alta Dovevo sapere come significava fruscello Con una versione veramente di grande qualità, di grande teatro Terminiamo con una versione un po' più popolare Ho paura Alla maniera, come dire, alla maniera burina Dei film di Natale anni Ottanta Alla maniera coatta Alla maniera... va bene ci siamo, ce l'avete? Sì Siete pronti? Sì! Però, visto che Shakespeare ha durato 4 minuti e mezzo E io ho una certa fame Vi do sempre 3 minuti Ok, pronti? Via! Specchio, specchio Adesso, dimmi, dimmi, chi è la più bella? Ma quante volte ve lo devo dire, Alessi, che non siete mica voi, Alessi? Oh, eh, sono sempre le altre, no, ci sono io, Alessi. Ho detto, Bianca Leva, a prendere bianca, a bocca rossa, è lei. Alecchia, che ne serve questo servizio? Sì, no. Che devo fare, ma? Lei, vai a... Gli do al corpo io, non ci pensare. C'è dove? Sì, Bianca Leva. Vienete un po' giù là. E questo? Guarda un po'. Buono questo, eh? Ehi, andaci! Oh, mamma mia, no, che schifo! E' bello. Buono, eh? Alecchia, tornato. Che ti piace? Dove è pollo? Lo vuoi più grande? Ma che è questo cuore? Guarda! Non è buono che dalla pentola. A me in dire io, il po' altro non capisco. Faccio... Andiamo a lavorare. Inizio. Paolo! Andiamo a lavorare. Non è buono, ma signora! Non è buono! Ma che buono è? Inizio! Oh, che compito! Ti mangia? Ni! specchio specchio eh dai sbrigati adesso di chi è la più bella eh eh ma leggi ma ti ammazza qui ma ancora viva quella là dai che le mando una bella mella paggio paggio dai 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 e voi eh dai io posso fare voglio portarti questa mella ma perché? 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 che perché? dai eh 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 va buo oh è pronto è questo! Oh! Vieni tutti cantate! Oh! Ma la mangia è passata! Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Andiamo a pancare! Ah! Ah! Ma la mangia, non so! Ma la schiaffa! C'è la scelta? Fa la schiaffa! senza lavorare lì, ma siediti, metti le vie, tranquilla, mangiate una nera, eh, vedi, buona, buona, cinque ore, vai, magna, attenta, e attenta, ma che dai, una mossa, oh, che dici? Adesso, chi è la più bella? Sì, ma che sono io, eh, ma sì, eh, guarda, un po' che sono qua. Adesso, magari io colonna non c'è più, hai la più bella sera. Ma visto che non avete rispettato un tempo e io non capisco che cosa sono qui a fare, questa volta vi do solo 30 secondi. Se in 30 secondi non mi finite Biancaneve, tolgo tutti i punti a entrambe le squadre. Va bene? Se ce la fate, il match finisce in parità e si va subito a mangiare perché c'è una fame e una miseria. Ok, va bene? Siete pronti? 30 secondi. Siete pronti? 30 secondi, eh, pronti? Partenza? Speglie, gioca! Speglie, speglie,� proc вижу! Uh, oh, 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 oh! Gio, gioca prima! Speglie, speglie,pio cadeрамppi, imp Brad, reddite? Ma non è che carimelo ci piace! Ma sono a bici presto! Adesso potete appoggiare! Quindi io voglio il prossimo voto per le squadre aperti! Grazie a tutti! Il Vestilista in Polità! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il Vestilista in Polità! Basta! Interrompere il disco così che mi sono presentato i tuoi protagonisti questa serata! Guarda che lei annoia! Se ne state già andate! Guarda che la chiamo più! Capone mia! E allora! E' più reti! Non mi stanno a farlo! Scusate! Ma la sua notella ha musicato il Conduro 29! Arnie Seganù! Grazie a tutti! 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 Esteisu momento! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.